Per la traversata a nuoto da tavolare alla spiaggia di Porto Taverna erano inoltre 70. Nella tappa di fine stagione, che segue quella di andata in senso contrario, organizzata da Slow Dive insieme a Lega Navale Comune di Loiri Porto San Paolo, i partecipanti hanno sfidato le temperature più fresche dell'acqua e il vento e una volta arrivati sulla terraferma hanno ricevuto la medaglia. Tra loro un ospite d'eccezione, Simone Barlam, pluricampione paralimpico e medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Parigi. Sempre bella, sempre bello, l'acqua è molto fresca questa volta, però come si può vedere dalla cornice è un ambiente, una location abbastanza incredibile. Difficoltà per quanto riguarda il vento? Meno del previsto, c'erano dei momenti con un po' di onde alte, però per la maggior parte della gara era tutto molto tranquillo, molto piatto. Un po' di difficoltà nel trovare la direzione, io sono abituato alla piscina, quindi rispetto a quale l'acqua è libera è un po' più facile, però oltre al freddo il resto è tutto molto bene. Tra i fan di Barlam, anche il sindaco di Loi, Riporto San Paolo. Molto importante, è un campione olimpico, quattro medaglie d'oro alle Paralimpiadi, quindi dà il lustro sicuramente alla manifestazione e contribuisce a far conoscere ancora di più il nostro territorio. Ecco, dalle ultime Olimpiadi è passato un po' di tempo. Un commento a freddo? A freddo sì, un commento a freddo. Parigi è stata incredibile, una grandissima esperienza. Adesso ci sarà appunto da tornare in vasca e rimettersi sotto per gli obiettivi futuri, però intanto ci siamo goduti un po' quello che abbiamo fatto.